A Dunata Nazionale, Vicenza si prepara a diventare capitale delle penne nere. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio la città del Palladio ospiterà 400.000 persone. La tensione si alza, il traguardo si avvicina. A livello numerico abbiamo superato le 10.000 persone che verranno a dormire in città nei nostri posti camper, nelle nostre piazzole, nei nostri attendamenti, nelle palestre perché tutte le palestre della città verranno messe a disposizione per gli alpini quindi diciamo abbiamo dovuto sospendere e chiudere perché nel giro di tre settimane eravamo andati in sold out, abbiamo ricercato ulteriori possibilità di spazi e di posti e di brande, li abbiamo trovate e abbiamo riaperto quindi ha rimesso la possibilità di registrarsi ancora. Ad oggi mancano 49 giorni all'inizio della Dunata, comincia ad alzare la tensione e l'emozione di questo grande evento che per noi alpini è la nostra festa nazionale. L'organizzazione del grande evento procede ad alto ritmo, la città è stata suddivisa in tre aree quella rossa corrispondente al centro storico dentro alle mura dove risiedono 7.390 persone quella arancione tra il centro storico e Viale d'Alviano, Rodolfi e Margherita con 4.040 residenti e la zona gialla a sud ovest della città abitata da circa 20.000 vicentini. Ovviamente abbiamo lavorato questa suddivisione della città in zone rossa, arancio e gialla di concerto con la prefettura, di concerto con la questura, di concerto con gli alpini che sono la 95esima adunate quindi hanno anche uno storico importante a cui noi come amministrazione ci siamo affidati. La zona rossa è la zona del centro storico della città dall'interno delle mura dove per poter entrare si potrà entrare fino al giorno venerdì, dopodiché sarà di fatto interclusa alla circolazione. A parte potranno chiaramente percorrere quelle vie i mezzi di soccorso, di polizia e i mezzi che hanno delle identificazioni specifiche per le manutenzioni o per il buon funzionamento della città. Invece la zona arancione sarà una zona anche quella dove i residenti potranno muoversi con le auto, quindi entrare ed uscire. La zona gialla è una zona destinata alla giornata di domenica quando ci sarà l'ammassamento e di conseguenza tutti gli alpini si ammasseranno in quella zona, zona quartiere San Lazzaro e dopodiché da lì si partirà con la sfilata che percorrerà le vie cittadine.